Nel caso di danno cagionato da insidia non spetta al cittadino provare la colpevole inerzia della pubblica amministrazione, essendo piuttosto onere di quest'ultima dimostrare di non avere potuto rimuovere la situazione di pericolo. È quanto stabilito dalla terza sezione civile della Cassazione con la sentenza numero 8692 depositata il 9 aprile scorso. Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto responsabile la Regione Piemonte per i danni subiti da un motoscafo che navigava sul Lago Maggiore a causa della presenza di rocce semiaffioranti e non indicate nella carta nautica ufficiale.